Toradio, Zip News e Radio GTT presentano Tutto Città. Il sindaco di Torino Stefano Lorusso racconta in diretta le iniziative della città e risponde alle vostre domande. Potete inviare i vostri messaggi alla mail redazione chioccelazipnews.it oppure su WhatsApp al 353-371-1616. Tutto Città, ogni martedì in diretta con il sindaco di Torino, dall'Urban Lab in piazza Palazzo di Città, dalle ore 9, un'iniziativa Toradio, Zip News e Radio GTT. Buon martedì, buon martedì di nuovo insieme con Tutto Città. Un saluto ad Edoardo Paradisi, con me, come sempre, il sindaco di Torino Stefano Lorusso. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Un appuntamento, come ogni martedì, che dà voce anche a voi ascoltatori, oltre a scoprire tutte le novità e le iniziative dalla città direttamente con il sindaco. Lo ricordiamo quindi che è possibile scrivere a redazione chiocciolazipnews.it una mail oppure anche un WhatsApp 353-371-1616, come ogni martedì scopriremo insieme la città. Una mezz'oretta circa, in diretta da Urban Lab, quindi direttamente da Piazza Palazzo di Città, in diretta su Toradio, Zip News e Radio GTT. Allora, sindaco, ce l'eravamo promesso l'altra settimana di fare un approfondimento su Sanremo, quindi un tema ancora molto molto caldo. Com'è stata questa settantaquattresima edizione? Ma a me è piaciuta tantissimo. No, onestamente mi sono piaciute la stragrande maggioranza delle canzoni. Io facevo il tifo per Anna Lisa, sono sincero, ma anche la canzone che ha vinto è una bellissima canzone. E mi pare il bellissimo messaggio è che c'è una nuova generazione di cantanti italiani che si sta affermando e che sta incontrando i favori di un grande pubblico di giovani e di meno giovani. Mi sembra davvero una bellissima notizia per il mondo artistico musicale italiano. Ecco, la domanda serve stata proprio questa sul suo cantante preferito. La classifica, soddisfatto, comunque rispecchia secondo lei un po' l'attualità? Sì, assolutamente. Ribadisco, io avrei visto bene la vittoria di Anna Lisa perché mi piace molto la canzone. Sicuramente la canzone di Angelina Mango è altrettanto bella. A me ha colpito molto anche Giorlier che ha fatto davvero un'operazione ad alto rischio perché insomma portare la canzone in dialetto napoletano a Sanremo è comunque una cosa che ti espone anche a critiche. Ha preso tante critiche ma secondo me la canzone è bellissima e non a caso sulle piattaforme streaming infatti è una di quelle più ascoltate. Mi sembra un segnale molto importante. Credo che Amadeus abbia davvero cambiato il volto del festival. Ha avuto la capacità di individuare questi artisti giovani, di lanciarli, di buttarli in qualche modo sulla scena della più importante manifestazione canora e credo che appunto abbia davvero un merito che è quello di aver trasformato il festival e soprattutto aver avvicinato tanti giovani che oggi lo seguono certamente anche con il Fanta Festival molto più di quanto facevo ad esempio io quando ero un po' più giovane in cui insomma il festival sembrava un pochino un po' arrugginito come manifestazione. Oggi è davvero invece molto molto accattivante. Il Fantasaremo ha sicuramente aiutato anche gli ascolti, 5 edizioni quindi di successo. Vediamo un po' che cosa accadrà il prossimo anno. E allora voltiamo pagina, iniziamo a parlare direttamente di Torino. Spesso si è parlato di Sistema Torino con tante accezioni. Allora vogliamo tornare secondo quanto, su quanto ha detto l'ex sindaco Castellani alla presentazione dell'autobiografia di Enrico Salza. Oggi avremmo bisogno di un nuovo sistema Torino, ha detto, scegliendo una vocazione e concentrandosi su quella per eccellere nel mondo. Che cosa ne pensa? È d'accordo? Ma io innanzitutto credo che questa città debba dire un grande grazie a Enrico Salza che comunque ha avuto il merito e il pregio di riuscire in un momento molto critico che era quello dei primi anni 90 a dare una traiettoria di sviluppo, ha promosso una serie di iniziative molto importanti anche di disegno strategico della città. È chiaro che questo elemento è stato un po' identificato come quello che appunto viene chiamato Sistema Torino. Io penso e sono molto d'accordo anche con quanto dice Valentino Castellani. Noi abbiamo esigenza di fare sistema perché ovviamente le sfide sono quelle molto complesse legate anche banalmente alla trasformazione della città o più invece in maniera strategica quello che è il cambio di paradigma industriale. Credo che ci siano però tutti gli ingredienti per poterci riuscire a partire da una forte coesione e da un modo di lavorare che soprattutto in qualche modo riconosce le istituzioni come un punto di sintesi anche quando gli interessi sono contrapposti. E questo mi sembra il miglior segnale per guardare con ottimismo al futuro. Siamo soltanto all'inizio di tutto città, ancora tanti i temi da approfondire in questo appuntamento ovviamente dedicato alla città insieme al sindaco di Torino Stefano Russo. Ricordiamo potete scriverci in redazione chiocciolazipnews.it oppure un whatsapp al 353-371-1616. Tutti i temi saranno approfonditi anche ovviamente la prossima settimana. E allora ne abbiamo parlato tanto anche nelle altre puntate. giochi olimpici invernali se ne continua a parlare proprio per la vicinanza comunque con Torino e la possibilità ancora che sia inclusa. Questo magari ne parleremo dopo ma intanto vorrei chiedere, erano proprio in questi giorni, 18 anni fa che a Torino c'erano le Olimpiadi, lei che cosa faceva in questi giorni? Ma in questi giorni come tutti i Torini, io non ero ancora in politica quindi... perché poi mi candidai per la prima volta proprio nel 2006 ma le elezioni si svolsero più avanti a maggio quindi insomma in quella stagione ero fuori dalle istituzioni, ero decisamente più giovane e lo ricordo come uno dei momenti più straordinari che questa città abbia mai vissuto certamente quello più importante negli ultimi decenni. Quindi sicuramente è un ricordo positivo che credo ancora oggi sia presente a Torino nonostante siano passati così tanti anni, ovviamente questo elemento è un elemento che ci ha spinto nei mesi scorsi a provare a rientrare in partita su Milano-Cortina non è andata come avremmo voluto questo è un grande peccato per la città, però diciamo così che le scelte che sono state fatte prima del nostro arrivo sono scelte che insomma in qualche modo purtroppo oggi paga la città ci abbiamo provato e purtroppo queste scelte hanno condizionato questa nostra esclusione. Bene, quindi diciamo non c'è più alcuna possibilità, questo lo possiamo dire? Ma lo vedremo, però è chiaro che sicuramente noi abbiamo provato in tutti i modi con la regione a provare a tornare in partita rimettendo in disponibilità i nostri impianti, dandoci disponibili dall'inizio sicuramente ci abbiamo creduto molto, però è chiaro che salire su un treno in corsa è molto più complicato che salirci dall'inizio. L'errore di non salirci dall'inizio insomma purtroppo credo, temo non ci consentirà di essere in partita nel 2026. Certo, ascoltiamo un messaggio degli ascoltatori che è proprio legato a questo tema in qualche modo. Buongiorno signor sindaco, sono Gianpaolo. Secondo lei la costruzione del Pala Italia a Milano per le Olimpiadi con una capienza oltre ai 15.000 spettatori dell'Inalpi Arena di Torino può far perdere di attrattiva il capologo piemontese per gli eventi internazionali o nazionali come l'ATP o le finali di Coppa di Basket. La ringrazio. Ovviamente c'è poi tutto il discorso anche successivo ovviamente alle Olimpiadi se in qualche modo anche strutture che saranno realizzate potranno portare via qualcosa al capoluogo piemontese. Ma non c'è dubbio che ovviamente la presenza di un palazzetto di quella portata con quella capienza vicino a Torino è una cosa che comunque va monitorata con attenzione e certamente impone una riflessione anche su quello che riguarda eventuali lavori di ampliamento sul palazzetto che c'è da noi a Torino. A dimostrazione del fatto che tra le tante eredità olimpiche che le Olimpiadi lasciano alle città lasciano anche questi impianti che poi servono negli anni successivi. Come ricordiamo tutte le volte noi non avremmo mai neanche avuto la possibilità di giocarcela la partita per le ATP Final o la Final Lady Basket o per molti concerti se non ci fossero state le Olimpiadi del 2006 e non avessimo avuto quel palazzetto. Quindi questo lo dico anche come dire talvolta vedo che c'è un po' la memoria corta a corto raggio invece bisogna andare un pochino indietro perché se non avessimo avuto le Olimpiadi molti degli eventi che poi hanno caratterizzato la storia di questa città anche molto recenti non sarebbe stato neanche possibile immaginarli. Milano avrà certamente un'eredità molto importante e renderà ancora più competitiva questo tipo di dimensione. Cercheremo di attrezzarci per continuare a mantenere gli standard di qualità e di attrattività che abbiamo conquistato con le Olimpiadi e che credo debbano essere a questo punto ulteriormente potenziati. Entriamo nel tema super locale perché parliamo di Corso Belgio quindi un tema molto affrontato nelle scorse settimane per i quali devo dire continuano a arrivarci tante segnalazioni ripreso l'abbattimento degli alberi anche se con un po' di fatica perché addirittura i residenti sono scesi in strada con le pentole quindi che cosa accadrà? Innanzitutto non sono i residenti ma sono un gruppetto di dieci manifestanti alcuni dei quali manco risiedono in Corso Belgio. Io sono abbastanza contrariato lo dico con franchezza perché questi alberi di cui abbiamo programmato l'abbattimento, l'assessore Tressoli ha seguito tutto il dossier dall'inizio, sono alberi che sono classificati a estrema pericolosità di caduta, cioè vuol dire e peraltro le foto degli abbattimenti della scorsa settimana che sono anche circolate sui social con questi tronchi completamente marci all'interno stanno a dimostrare che quegli alberi così come sono non possono stare. Questo non c'entra nulla con l'intervento di riqualificazione di Corso Belgio si tratta di pubblica incolumità, si tratta di interesse pubblico e quindi noi con franchezza lo dico abbiamo il dovere oltre che in qualche modo la titolarità di intervenire a tutela delle persone che sotto quegli alberi oggi ci passano e che a fronte di una raffica di vento particolarmente forte o di un temporale particolarmente forte sono classificati a estrema pericolosità quindi ovviamente quello che è capitato ieri è un fatto molto grave si è impedito, hanno impedito questi dieci residenti di procedere a un'operazione di messa in sicurezza a questo punto dovremo intervenire e certamente lo faremo anche diciamo così purtroppo non trovando ragionevolezza dentro questo tipo di questo comitato credo davvero, però è mio dovere da sindaco garantire che nella mia città gli alberi non caschino in testa alla gente, a bambini che giocano, a macchine e penso davvero che si sia superata una soglia che io credo non sia più tollerabile è assolutamente importante fare chiarezza soprattutto quando si parla di sicurezza anche perché è un interesse pubblico, io ho dei doveri d'ufficio e tra i miei doveri d'ufficio nel momento in cui vengo a conoscenza di un fattore di pericolosità per l'incolumità delle persone e stiamo parlando appunto di credo 17 alberi che sono stati classificati ribadisco a estrema pericolosità è nostro dover intervenire e ci dispiace tantissimo ma non possiamo fare diversamente, interverremo Certo, sempre in diretta con Tutto Città direttamente da Urban Lab, Piazza Palazzo di Città siamo insieme al sindaco di Torino Stefano Lorusso è possibile inviare un messaggio a redazione chiocciolazipnose.it oppure un whatsapp a 353-371-1616 allora abbiamo un altro messaggio direttamente dagli ascoltatori che ascoltiamo Buongiorno sindaco Lorusso, sono Elena e vorrei che mi spiegasse cosa c'è di positivo nel legalizzare l'occupazione che sta facendo il centro sociale a Scatasuna quando sappiamo benissimo che i centri sociali non apportano nulla di positivo e soprattutto quel locale è un bene del comune cioè anche mio, anche dei cittadini la ringrazio in anticipo e buon lavoro Grazie della domanda perché mi dà l'occasione anche di provare a spiegarle per ennesima volta perché credo che ci sia stata un po' di disinformazione sull'operazione di che cosa si tratta a Scatasuna è un centro sociale che è dentro un immobile comunale occupato da 27 anni quindi diciamo così credo piuttosto da parecchio tempo e dentro questa dimensione di occupazione non senza titolo ci sono verificate delle condizioni di pare insomma sulla base delle evidenze della magistratura di commissione di reati questo tema ovviamente innesca un meccanismo che è quello di provare a trovare una strada per tornare come giustamente diceva l'ascoltatrice come città di Torino in possesso di questo immobile ora io ignoro le ragioni per cui in questi 27 anni le autorità preposte all'ordine pubblico e alla sicurezza non hanno mai sgomberato a Scatasuna con la forza non compete a me fare queste valutazioni tutti avranno avuto i loro elementi si sono succeduti prefetti, questori, sindaci ben prima di me e se non è stato fatto credo che delle ragioni ci siano e credo che siano anche legate a in qualche modo una dimensione che è quella di cercare di evitare di creare situazioni di tensione laddove è possibile evitare di crearle noi abbiamo ricevuto come comune una proposta da parte di alcuni cittadini che sono tutti cittadini assolutamente fuori da queste vicende di carattere giudiziario che come ricordo in questo paese hanno sempre caratteri di soggettività cioè noi non dimentichiamo mai che gli elementi di violazione del codice penale sono individuali, non sono di un gruppo e non lo sono certamente di un edificio in quanto tale questi cittadini hanno proposto alla città di avviare un percorso che è quello di restituzione alla città e di utilizzo attraverso un meccanismo di partecipazione pubblica di quel luogo che oggi non lo è a fini sociali e a fini di utilità pubblica del quartiere condizione imprescindibile perché questo percorso possa avvenire peraltro tutte cose che sto dicendo che sono contenute negli atti deliberati quindi sarebbe sufficiente per chi polemizza leggere questi atti che questo immobile ci venga restituito che quindi in qualche modo venga sgomberato da cose e persone che possono creare pericolo restituito alla città la città avvierà con i cittadini con un meccanismo aperto pubblico e partecipato la coprogettazione del riutilizzo di quell'immobile ovviamente alla luce delle evidenze che sono state rappresentate di ASL e vigili del fuoco occorrono delle verifiche tecniche di carattere statico perché le relazioni, le perizie degli organi che citavo che sono avvenute su indicazione dell'autorità giudiziale della procura della Repubblica evidenziano queste carenze quindi noi non appena verremo in possesso di questo immobile abbiamo già incaricato degli ingegneri che possano verificare lo stato di luoghi e quindi quantificare anche in qualche modo e dare una mano al percorso di coprogettazione che ribadisco è aperto a chiunque ovviamente nel rispetto di quelli che sono i parametri di legalità e di non violenza questo percorso, ultima cosa che dico è stato condiviso, comunicato a tutte le organizzazioni e le autorità a partire dalla prefettura, dalla questura e dalla procura della Repubblica passo a passo peraltro l'ultima riunione che abbiamo fatto in prefettura data 16 di gennaio la delibera è di 15 giorni dopo quindi in qualche modo proprio perché è un tema molto delicato come giustamente faceva rilevare l'ascoltatrice ci siamo mossi comunicando man mano alle autorità di pubblica sicurezza le cose che stavamo facendo funzionerà? non funzionerà, questo non dipende solo dal Comune dipende anche tantissimo da quello che sarà in qualche modo l'atteggiamento degli occupanti ovviamente è una scommessa sulla capacità di superare una occupazione che dura in maniera non legittima da 27 anni è una scommessa anche di un patto civico io penso però che sia come dire utile oltre che necessario che nella città di Torino vi siano luoghi di libero e democratico dibattito anche quando è aspro peraltro i contenuti di quello che viene detto lì dentro si sa bene non sono propriamente quelli che come dire vicini al sindaco quindi a tutela come dire di qualcuno che pensa che ci sia una sorta di condivisione dei contenuti come è noto non è così ma io penso che si debba garantire nella legalità e nella non violenza la libera democrazia la libera espressione del pensiero questo è un principio giuridico è anche un principio di civiltà che io penso stia pienamente dentro la cornice del percorso che abbiamo avviato che ovviamente spero vada bene auspico vada bene e noi stiamo facendo tutto il massimo perché vada bene e quindi questo immobile a valle di questo percorso possa venire restituito alla collettività siamo soltanto all'inizio ovviamente di questo percorso abbiamo fatto chiarezza anche sul tema a Scatasuna torniamo a parlare di sport e anche di grandi eventi siamo entrati nella settimana del grande basket a Torino da domani fino al 18 febbraio l'inalpi arena le final eight di basket che cosa significa questo per la città? rispondo volentieri anche sulle finalette c'è solo una cosa che prima non ho detto ma che ci tengo molto a sottolineare che è la parola non violenza io non ho nessuna remora anzi l'ho sempre fatto credo davvero che la condanna agli atti violenti debba essere massima e dentro questa cornice è intollerabile lo dico perché il presidente Cirio è sotto scorta da quattro anni proprio per una vicenda che riguarda quella componente violenta assoluta solidarietà e le cose non c'entrano una con l'altra ma un conto è condannare la violenza un conto è non occuparsi di risolvere un problema la strada che abbiamo percorso è quella di provare a risolvere un problema sperando che vada bene tornando alle final eight abbiamo ieri ricevuto a Palazzo Civico la Coppa siamo veramente contenti di poter ospitare questo importantissimo torneo di basket per la seconda edizione siamo davvero contenti di poter avere qui le tifoserie delle otto squadre che si sfideranno e da torinese dico nella speranza che insomma anche il movimento del basket torinese possa a breve riuscire a trovare una come dire una platea e un palcoscenico che credo questa città possa e debba avere e questo ce lo auspichiamo abbiamo un altro messaggio degli ascoltatori sempre in diretta con tutto città insieme a noi il sindaco di Torino Stefano Russo in diretta su Toradio Zip News e Radio GTD chiedo allora alla regia di mandare anche questo contributo Buongiorno sindaco complimenti per questa trasmissione le volevo fare una domanda relativa al mercato di Porta Palazzo abbiamo visto che è in atto una riqualificazione dell'area mercatale ma per quanto riguarda le case che sono attorno alla piazza volevo sapere se il comune può intervenire in qualche modo imponendo un restauro un decoro anche di questo edificio oppure se è solo responsabilità dei singoli proprietari grazie allora noi stiamo lavorando tantissimo sui mercati Porta Palazzo è uno ma ce ne sono molti altri che stiamo riqualificando io sono un grande fan dei mercati penso davvero che siano una delle espressioni più belle del commercio torinese perché sono luoghi di aggregazione oltre che luoghi di commercio in cui le persone possono fruire anche di un momento di socialità Porta Palazzo è uno di questi mercati il mercato del pesce è oggetto come veniva ricordato di interventi su cui noi stiamo intervenendo perché l'immobile in realtà è comunale quindi noi ovviamente possiamo intervenire su quelli che sono i nostri immobili sugli immobili di proprietà privata non possiamo intervenire se non quando il decoro o eventuali motivi di sicurezza pregiudicano appunto l'incolumità o il pubblico decoro tornando al tema dell'incolumità di Corso Belgio di prima è uno di quei casi in cui siamo tenuti a intervenire questo meccanismo ovviamente di riqualificazione credo genererà una spinta positiva anche da parte come dire dei proprietari di questi immobili e piano piano penso che le cose capiteranno anche in maniera piuttosto spontanea però per rispondere all'ascoltatrice io non ho strumenti per ovviamente imporre dei proprietari di fare delle cose quando queste cose non sono nei termini che dicevo prima quindi o sicurezza pubblica incolumità o pubblico decoro credo però che insomma continuo a essere ottimista Porta Palazzo sta veramente cambiando gli interventi che stiamo facendo sono moltissimi anche attraverso i progetti cosiddetti pinqua sull'housing sociale e penso che insomma quando questi interventi saranno terminati questo darà una spinta anche alla riqualificazione di immobili privati ecco sicuramente la riqualificazione del mercato in sé potrebbe aiutare parliamo di cinema allora Torino sempre più al centro lo è sempre stata diciamo abbiamo sempre visto ovviamente in giro per la città riprese troupe in particolare però negli ultimi mesi abbiamo avuto diciamo tante personalità perché Mike Tyson recentemente per girare il suo Bunny Man arriverà Johnny Depp per il suo film Modigliani poi recentemente anche Fast and Furious quindi anche grandi grandi produzioni hollywoodiane Torino amata quindi come città per il cinema lo è l'Italia lo è certamente in questa cornice Torino che grazie anche al lavoro incessante della Film Commission è un set per tantissimi film fortunatamente non solo quelli prodotti in Italia o italiani anche film stranieri peraltro una città che si presta tantissimo a questo tipo di attività e non va dimenticato che questo al di là del tema di raccontare la nostra città nei film e farla vedere ha anche un risvolto economico occupazionale importante perché quando le troupe arrivano e si muovono generano comunque un indotto economico perché sono centinaia di persone che si spostano che stanno nei nostri alberghi vanno nei nostri ristoranti quindi questo ha anche una sua economia piuttosto importante sicuramente oltretutto film genera film e quindi c'è un meccanismo anche come dire di una situazione che ne segue un'altra ne siamo molto molto contenti la sosteniamo con grande intensità e non dimentichiamo che abbiamo anche il nostro fantastico museo del cinema torniamo a parlare di grandi eventi con tutto città quasi al termine di questa puntata torna il Salone del Vino di Torino dal 2 al 4 marzo la seconda edizione una manifestazione diffusa all'EOGR Torino e al Museo del Risorgimento quindi arriveranno produttori consorzi noteche e il pubblico potrà incontrare ovviamente cantine storiche ma anche giovani vignaioli piemontesi sì l'abbiamo presentata ieri un'altra scommessa della nostra amministrazione l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione l'edizione di avvio è andata molto molto bene quest'anno ci sarà questa seconda edizione il riscontro è stato davvero oltre le nostre attese sia per quanto riguarda i produttori del vino sia per quanto riguarda l'affluenza di pubblico quest'anno cambia la location all'EOGR e poi ci sarà il museo del risorgimento quindi un evento che vogliamo davvero far crescere nei prossimi anni peraltro in un momento in cui si parla tanto di qualità del cibo si parla tanto di agricoltura si parla di agricoltura in qualche modo in termini di sostenibilità e di identificazione geografica il vino per definizione è la migliore ambasciatore di questa politica è una coltivazione quella dell'uva che tra l'altro aiuta a presidiare il territorio a evitare l'abbandono dei territori una coltivazione che richiede grande manualità e quindi la presenza fisica delle persone e oltretutto caratterizza i paesaggi certamente di Torino della città metropolitana e di intero Piemonte quindi sicuramente un messaggio importante anche nell'ottica di un settore merceologico che come sappiamo è in grande crescita è in grande crescita l'export con tanta ricerca tanta innovazione tanta cura sicuramente che genera a sua volta un indotto economico e poi la piacevolezza di un buon bicchiere di vino credo che sia nelle corde degli italiani dei torinesi e penso davvero che anche questa seconda edizione sarà un successo ecco lei da vino bianco o rosso? io amo sia quello rosso che quello bianco però sono molto molto local sui vini quindi sono da Nebbiolo e da Barolo che sono i miei due vini preferiti a seconda di che cosa mangio e sui bianchi sono una grande amante dell'Arneis ma sulle bollicine credo davvero che stia crescendo molto bene l'Altalanga e a breve credo faremo davvero concorrenza non solo sulla qualità ma anche sui numeri ad altri vini frizzanti che sono conosciuti nel mondo che arrivano dal Veneto in questo sono abbastanza autarchico e difensore del nostro Piemonte e dei nostri vini bene bene quindi ovviamente l'importanza dicevamo dell'abbinamento siamo al termine di Tutto Città di questa puntata insieme questa mezz'ora e non ci resta che parlare di San Valentino domani San Valentino di amore non ce n'è mai abbastanza chiudiamo allora con questa puntata ovviamente con un saluto a tutti gli innamorati della città ma anche con un suo saluto sindaco un messaggio d'amore chiamiamolo così per la città e i cittadini allora gli innamorati tra di loro gli auguri se li faranno gli innamorati quindi il sindaco li fa a tutti quelli che come diceva lei sono innamorati della città stiamo cercando davvero di prendercene cura con amore e speriamo che San Valentino che è un po' il patrono degli innamorati aiuti oltre che gli innamorati e le coppie anche chi ha amore per questa città grazie ancora al sindaco di Torino Stefano Russo si chiude qui questa puntata di Tutto Città dagli Urban Lab in diretta su Toradio Zip News e Radio GTT ovviamente appuntamento al prossimo martedì una buona giornata buona giornata a tutti Toradio Zip News e Radio GTT presentano Tutto Città il sindaco di Torino Stefano Lorusso racconta in diretta le iniziative della città e risponde alle vostre domande potete inviare i vostri messaggi alla mail redazione chiocciolazipnews.it oppure su Whatsapp al 353 371 1616 Tutto Città ogni martedì in diretta con il sindaco di Torino dall'Urban Lab in piazza Palasso di Città dalle ore 9 un'iniziativa Toradio Zip News e Radio GTT